8 anni di reclusione per violenza sessuale con le attenuanti generiche. E questa la pena inflitta dal Tribunale dell'Aquila, Francesco Tuccia, è il 22enne di Montafredane, accusato dello stupro di una studentessa universitaria di Tivoli di 21 anni. La giovane, presente in aula dove c'era anche l'imputato, riportò ferite lacero contuse e guaribili in 40 giorni. Il fatto accadde fuori dalla discoteca guernica di Pizzoli la notte tra l'11 e il 12 febbraio dell'anno scorso. Dopo una brutale violenza, la giovane fu lasciata esanima e insanguinata in mezzo alla neve del piazzale del locale e fu salvata dall'intervento di Pino Galli, uno degli addetti alla sicurezza, che dopo averla soccorsa allertò il 118. È stata un'operazione di violenza inaudita, aveva detto stamane nel corso della requisitoria, durata circa un'ora e mezzo, il pubblico ministero David Mancini nel ricostruire lo stupro. L'accusa aveva chiesto 14 anni di reclusione per violenza sessuale e tentato omicidio. Ritenuto colpevole dell'accaduto, Tuccia fu arrestato alcuni giorni dopo e rinchiuso nel carcere di Teramo, nella stessa cella di Salvatore Parolisi, condannato all'ergastolo per l'omicidio della moglie Melania Rea. Successivamente, e tra numerose polemiche, per lui furono disposti i domiciliari. All'epoca dei fatti, Tuccia era un militare del 33esimo Reggimento Artiglieria Terrestre Acqui. Il tribunale era composto da Giuseppe Greco, presidente Italo Radoccia e Carla Ciofani, giudici all'Atere.